Oh, guardate lì! Grande fratello, passione tra Shaila e Lorenzo, non resistono e si chiudono nel magazzino, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono tornati al grande fratello italiano dal gran hermano spagnolo. Voglio vedere la faccia degli altri inquilini quando sapranno che voi eravate in Spagna, perché loro non sanno nulla aveva detto a inizio puntata Alfonso Signorini. Tra i due concorrenti è scoppiata la passione e ovviamente, grazie a questa dinamica, la puntata ha preso piede con le reazioni di Aviar, che con Shaila aveva un flirt, ed Elena, che per Lorenzo ha sempre detto di provare qualcosa. Io non ho mai detto a Aviar di negare tutto quello che c'è stato tra noi, tant'è che ho raccontato tutto in questi giorni al gran hermano spagnolo, ha spiegato Shaila. Comprendo il fatto che lui sia arrabbiato con me, lui è un ragazzo fortissimo, bravo, con dei valori e io mi sono voluta dare nella vita, visto che ho avuto esperienze brutte in amore, una possibilità di vivere una cosa diversa. Grande fratello, Shaila e Lorenzo si chiudono nel magazzino. Parole che non sono servite a Aviar che ha ribattuto, quello che facevamo sotto le coperte con Shaila era la parte più bella della giornata, il teatrino che faceva con Lorenzo durante la giornata non mi interessava. Adesso di Shaila non mi fido più. La puntata è stata incentrata sul nuovo flirt del grande fratello e soprattutto Shaila è stata molto criticata per il suo comportamento non proprio coerente. Dopo la puntata in diretta di lunedì, Shaila e Lorenzo si sono mostrati sempre più vicini, fino a quando ieri sera, come mostrano diversi video pubblicati sui social, si sono lasciati andare a un momento di passione e si sono chiusi nel magazzino della casa. Qui è un cao di casino. Tu sei un casino, ma sei il mio casino. Che ci nominino e ci buttino fuori, ha detto Lorenzo mentre baciava l'ex velina. E lei ha risposto, e tu pure sei un casino. Ho fatto tutto questo casino per te. Lo stai capendo cosa ho fatto? Se ci nominano. Chi se ne importa. Slinguazzamenti e pork tra Lorenzo e Shaila, una gatta in calore. Se mi avessero detto otto giorni fa che avrei visto una cosa del genere, nella casa soprattutto, li avrei pressi per pazzi. Aiuto ancora non realizzo. Sono Shaila e Lorenzo, si legge su social. Dopo l'incontro in magazzino, i due si sono ricomposti e Lorenzo ha consigliato alla ragazza di fare pace con Amanda e Maria Vittoria.